Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video, io sono Luca e oggi siamo in un vlog, farò vedere la mia casa Allora Allora, faccio vedere Sto vedendo un latino Allora Questo è dove sto con le terri o se farò del video, con il video e non lo canto troppo bene Cucu, Cucu saluta Ehi Cucu Cucu, 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 Cucu Cucu, la fuori Ora farò vedere Farò vedere sopra le scale Eccola, questa è la mia cameretta Che bella Quelli sono i miei vestiti La tv, la tenda e l'armadio Dove ci tengo E' un po' che non è vero E questa è la luce Allora, questa è quella mia mamma Un po' di disastro Perché io sono saltato sopra E qua c'è l'armadio che si apre così E dopo Si chiude E dopo Si chiude Ok Non si vede bene Aspetta, scusate Eccola L'anno Eccoletti Ciao Andiamo ancora più sopra Questo è l'ultimo piano Allora Il bagno Qua dove ci dormiamo i miei amici Con Peppa Pig Yeah Peppa Poi La scrivania L'armadio Questa l'ho rotta io Saluta Ciao Ciao E qua è bagnato L'ho aperto E qua è dove Cioè Terza volta Registramo il video Andate a vedere Andate a vedere Il video che abbiamo fatto Su Club Duty E FIFA 16 E vogliamo provare Il letto Sopra Peppa E' comodo il letto Ma che non di dormo mai Andiamo a provare Pure gli altri letti Questo video durerà poco Le scale E la mia moglie a fira Il soffitto Una luce Una luce E' come il letto Per qua Qua si vede poco Sembra Ma Forse è meglio Che lo faccio Da questa parte Meglio Beh è la scelta cosa Comunque E' comodo E qua sotto Non me la posso Per vedere Ma Si dorme Cioè ci sono Altro letto E questo Questa è più comodo Ah Queste fanno male Meglio che le tolgo Mia mamma Mia mamma Forse è un po' dura Ma è sempre comodo Ma è sempre comodo Ma è Lativo Allora Scendiamo Sotto Devo stare attento Pure alle scale Visto che non c'ho le scale Non me la posso far vedere fuori Qua c'è il mio cane Che attacca Ma Vabbè farò vedere Da qua Vicino alla porta Qua Vado a provare La partice è importante Ci metto Non ci metto niente Si ci metto un buff Questo è il mio buff Oh Così Vengo la sorda Andiamo un po' fuori Qua è la strada Che porta Dietro il mio giardino Ma la palla Se ne andava di sotto E ciao Saluta Io non ci vedo Ma ho chiesto Che poi ci vedrete Quello là è fuori Dove Giù 94 Se ve lo ricordate Guardate Manda sempre le palle Fuori Non sta preoccupando Allora Quanto rapido io Nella porta Certe volte Facciamo che la sorda Se voi Arrivate a Boh Al giardino Arrivate a 5 Mi piace In questo video Faremo Faremo una partitella Tra amici Salute 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 Allora Non so se ci vedete Aspetta La In quella casa Restano pure Quei bastoni C'è un altro Cane Pericolosa Che era Quanto Non so se ci vedete E' un altro 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 video e quindi vi ricordo arrivate a 5 mi piace faremo una partita alla famiglia e ciao